Lezione 1. Il grande gioco. Ehi Anna, hai preso i biglietti per la grande partita di stasera? Ci puoi scommettere. Ho i biglietti proprio qui. Sono così emozionato. Sarà una partita fantastica. Fantastico, non vedo l'ora. Ti sei ricordato di preparare snack e bevande per il viaggio? Certo. Ne ho una borsa frigo piena di chicche. Devo fare il pieno di energia per tutti quei tifosi. Giusto? Ah, sicuramente. Niente batte il cibo da stadio, ma è intelligente portare anche qualcosa della nostra roba. Assolutamente. Inoltre, ci farà risparmiare un sacco di soldi ai chioschi in concessione. Una buona idea. Bene, allora siamo pronti? C'è altro che dobbiamo fare prima di partire? HMM. Fammi pensare. Oh, assicurati di avere la carta d'identità e i biglietti pronti per partire. Non voglio rimanere bloccato al cancello. Di sicuro. Sarà molto divertente. Sento già il boato della folla. Anch'io sono eccitato. Va bene, facciamolo. È ora di andare a tifare per la squadra di casa. Lezione 2. Incontri educati. Scusami, Anna. Hai un momento? Certo. John. Che succede? Volevo chiedere la tua opinione su qualcosa. Volevo essere più gentile nelle mie interazioni quotidiane. Ottimo. John. La cortesia fa molta strada. Su che genere di cose stai lavorando? Beh, mi sono assicurato di dire per favore e grazie più spesso, aprendo la porta alle persone. Questi sono esempi perfetti. Mostrare una cortesia di base può davvero fare la differenza. Esattamente. E sto anche cercando di essere più consapevole del mio tono e del linguaggio del corpo. Assolutamente. Mantenere una postura aperta e amichevole aiuta molto ad essere accessibile. Sicuramente. Voglio essere sicuro di non sembrare maleducato o sprezzante, capisci? Sicuramente. Piccole cose del genere possono avere un grande impatto su come le persone ti percepiscono. Assolutamente. Hai altri consigli per essere un buon cittadino attraverso un comportamento educato? HMM. Fammi pensare. Offrirsi di aiutare qualcuno se sembra in difficoltà è sempre apprezzato. Forse facendo attenzione al proprio volume negli spazi pubblici, per evitare di disturbare gli altri. Giusto, ha senso. Farò in modo di abbassare la voce nelle zone silenziose. Lezione 3. Perseguire l'istruzione superiore. Ehi Anna, stavo pensando di continuare i miei studi. Cosa ne pensi? Beh, è fantastico, John. Che argomento stai considerando? Sono davvero interessato a conseguire una laurea in informatica. Sono sempre stato affascinato dalla tecnologia. Oh, l'informatica è un campo così versatile e richiesto in questi giorni. Cosa ti affascina al riguardo? Amo l'aspetto della risoluzione dei problemi e sono ansioso di saperne di più sulla programmazione e sullo sviluppo del software. È fantastico! Capisco come questo influirebbe davvero sui tuoi punti di forza e sui tuoi interessi. Esattamente. Sento che è il passo successivo perfetto per me. Hai mai pensato di tornare a scuola? Sai, in realtà sì. Stavo pensando di conseguire un master in amministrazione aziendale. Wow, è impressionante. Cosa ti ha fatto decidere per un MBA? Sento che mi aiuterebbe davvero a far avanzare la mia carriera a lungo termine. Inoltre, mi piace il lato analitico del business. Questo ha assolutamente senso. Un MBA è una laurea così versatile. Hai già iniziato a cercare i programmi? Non ancora. Ma ho sicuramente intenzione di fare presto delle ricerche. Ci sono così tante ottime opzioni là fuori. Beh, sono sicuro che troverai la soluzione perfetta. Fammi sapere se hai voglia di scambiarti idee. Assolutamente. John. E lo stesso vale per te con il programma di informatica. E sono felice di prestarti ascolto. Grazie, Anna. È bello avere un amico solidale con cui parlare di queste importanti decisioni. Buongiorno, Anna. Volevo incorporare alcune sane abitudini nella mia routine quotidiana. Qualche idea? Oh, è un ottimo obiettivo, John. Beh, una cosa che mi ha davvero aiutato è iniziare la giornata con una colazione nutriente. Ah, sì, ho sentito che è importante. Che tipo di cibi preferisci mangiare al mattino? Mi piace molto una ciotola di farina d'avena con frutti di bosco freschi e un filo di miele. È così soddisfacente e mi mantiene pieno di energia. Amm, sembra delizioso. Dovrò fare un tentativo. Che mi dici dell'esercizio fisico? Segui una routine regolare? Assolutamente. Cerco di fare un allenamento di 30 minuti. Che si tratti di una camminata veloce o di una sessione di yoga. Bello, fantastico. Volevo tornare ad allenarmi in modo più costante. Può essere difficile iniziare, ma una volta acquisita l'abitudine, diventa molto più facile. Forse potremmo anche allenarci insieme qualche volta? È un'ottima idea. Mi piacerebbe la responsabilità e la motivazione. Sicuramente. E non dimenticare di rimanere idratato tutto il giorno. Tengo sempre una bottiglia d'acqua a portata di mano. Buon punto. Tendo a dimenticare di bere abbastanza acqua. Qualche altro consiglio che mi consiglieresti? HMM. Anche dormire bene è fondamentale. Se possibile, punta a 7 a 9 ore a notte. Ah, sì, è così importante. Dovrò lavorare su quello. Grazie per tutti gli ottimi consigli, Anna. Lezione 5. Un viaggio trasformativo. Ehi Anna, ho sentito che recentemente hai fatto un viaggio che ti ha cambiato la vita. Dimmi di più a riguardo. Oh, è stato incredibile, John. Sono appena tornato da un ritiro di una settimana in montagna ed è stato davvero trasformativo. Wow, sembra incredibile. Cosa hai fatto lì che l'ha reso così d'impatto? Beh, gran parte di ciò è stata l'opportunità di disconnettermi dalla tecnologia e riconnettermi davvero con me stesso. Ogni giorno facevamo sessioni di meditazione ed escursioni naturalistiche. Riconnettiti con te stesso, eh? Sembra esattamente ciò di cui ho bisogno in questo momento. Hai acquisito nuove abitudini o pratiche durante il ritiro? Sicuramente. Ho aperto un diario della gratitudine, che è stato così edificante. E le lezioni di yoga mi hanno cambiato la vita. Mi sento molto più centrata e radicata. Diario della gratitudine e yoga, eh? Hmm, forse dovrei indagare su qualcosa del genere. Sei andato in gruppo o è stato un viaggio da solo? Era un ritiro di gruppo, ma le dimensioni ridotte lo facevano sentire molto intimo e personale. Ho incontrato delle persone fantastiche che ora sono mie amiche. È meraviglioso, Anna. Sembra un'esperienza così arricchente. Penso che presto dovrò intraprendere un viaggio simile. Dovresti assolutamente, John. Non posso raccomandarlo abbastanza. È stata davvero un'occasione per resettare e concentrarsi nuovamente su ciò che è importante nella vita. Va bene, mi hai venduto. Vado a cercare di prenotare un ritiro del genere. Grazie per aver condiviso la tua esperienza con me, Anna. Lezione 6. La CN Tower E Anna, sei mai stata sulla CN Tower di Toronto? La CN Tower. Oh sì, ci sono stato un paio di volte. È una struttura piuttosto impressionante. Ho sentito che è una delle strutture autoportanti più alte al mondo. Com'è stato salire sui ponti di osservazione? È davvero incredibile. I panorami dall'alto sono semplicemente mozzafiato. Si possono vedere per chilometri. E anche il pavimento in vetro è piuttosto elettrizzante. Ehi, un pavimento in vetro? Non sono sicuro di avere il coraggio di camminarci sopra. Non è un po' vertiginoso? Ah, sì. All'inizio può essere un po' snervante. Ma è totalmente sicuro ed è un'esperienza così unica. Hmm, forse dovrò trovare il coraggio di provarlo un giorno. Quando è stata effettivamente costruita la CN Tower? Ottima domanda. La CN Tower è stata costruita nel 1975 come torre di comunicazione e osservazione. È stata la struttura autoportante più alta del mondo per oltre 30 anni. Wow, è davvero impressionante. Non avevo capito che fosse rimasto in piedi così a lungo. Qual era lo scopo originale della torre? È stata costruita principalmente come torre di trasmissione per segnali televisivi e radiofonici nell'area di Toronto. Ma è diventata rapidamente anche una grande attrazione turistica. Capisco, ha senso. E hanno tutti quei ponti panoramici e ristoranti in alto, giusto? Esattamente. Ci sono diversi livelli di osservazione. Un ristorante girevole e persino un'esperienza di edgewalk per gli amanti del brivido. Edgewalk, eh? Dovrò metterlo nella mia lista dei desideri. Sembra una struttura incredibile con così tanto da esplorare. Lo è davvero. La CN Tower è sicuramente una tappa obbligata se visiti Toronto. Non c'è niente di simile. Beh, hai sicuramente suscitato il mio interesse. Dovrò iniziare a pianificare un viaggio lassù presto. Grazie per avermi raccontato tutto, Anna. Ehi Anna, hai visto la partita importante nel fine settimana? Scommetti che l'ho fatto. È stata una partita così intensa. Cosa ne pensi delle nuove modifiche alle regole che hanno implementato in questa stagione? Amm, non sono sicuro di essere un loro grande fan ad essere onesti. Mi sembra che si siano davvero allontanati dal flusso tradizionale del gioco. Capisco il tuo punto di vista. Questi sport che amiamo hanno spesso storie e tradizioni culturali così ricche. È importante preservarlo, non credi? Assolutamente. Molti di questi sport erano importazioni di tradizioni sportive dalla Gran Bretagna. Ciò aveva senso dato che molte colonie erano influenzate dalla cultura britannica. Questo è davvero un buon punto. Non avevo pensato alle origini britanniche di alcuni dei nostri sport più amati. È affascinante come si siano evoluti nel tempo fino a diventare unicamente nostri. Esattamente. Prendiamo ad esempio il baseball, affonda le sue radici nel cricket, ma si è trasformato in questo passatempo tipicamente americano. Wow, non avevo capito che il baseball provenisse dal cricket. Conosci davvero la tua storia sportiva, John? Ah, beh, cerco di rimanere informato. Ma c'è sempre altro da imparare. Quali altri sport pensi abbiano origini interessanti come queste? Oh, fammi pensare. Che ne dici del calcio? Credo che affonda le sue radici negli antichi giochi cinesi e greci. Hai ragione. Le origini del calcio possono essere fatte risalire a migliaia di anni fa. È incredibile come questi sport siano sopravvissuti e si siano diffusi in tutte le culture. Sicuramente. Questo dimostra solo il fascino universale della competizione amichevole e dell'attività fisica. Lo sport ha davvero il potere di unire le persone. Non potrei essere più d'accordo, Anna. C'è qualcosa di speciale nell'esperienza condivisa di essere un tifoso o un partecipante a uno sport amato. Lezione 8. Caccia all'appartamento. Ehi Anna, stavo cercando di trasferirmi in una nuova casa. Hai qualche consiglio per trovare appartamenti in affitto nella zona? Oh, la ricerca di un appartamento può essere un processo del genere. Hai provato a cercare siti di annunci online? Questi possono essere molto utili. Sì, ne ho controllati alcuni, ma mi sembra un po' opprimente. Ci sono così tante opzioni tra cui scegliere. Ti sento. È facile perdersi in tutte le inserzioni. Hai pensato di rivolgerti a un agente immobiliare locale? Sai, non ci avevo pensato. Sapete consigliarmi sulle migliori agenzie di noleggio del quartiere? HMM, fammi pensare. So che il mio amico ha usato Peter e ha avuto un'esperienza davvero positiva con loro. Peter, ho capito. Dovrò chiamarli. A cos'altro dovrei prestare attenzione quando cerco un appartamento? Bene, assicurati sicuramente di visitare di persona a qualsiasi potenziale posto. Le immagini possono ingannare, sai? Buon punto. Mi assicurerò di fare alcune procedure dettagliate di persona prima di firmare qualsiasi cosa. E non dimenticare di chiedere informazioni come utenze, parcheggi e servizi. Questi costi nascosti possono davvero sommarsi. Ah sì, le commissioni nascoste. Farò sicuramente una lista di controllo per coprire tutti questi dettagli importanti. Sembra un piano. Sarei lieto di aiutarti a trovare altre opzioni se hai bisogno di un secondo paio di occhi. Lo apprezzo, Anna. È sempre bello avere un amico fidato dalla tua parte durante la ricerca dell'appartamento. Lezione 9. Piano divertente per il fine settimana. Ehi, come va? Sento che questa settimana è appena trascorsa. Conosco la sensazione. Ma ehi, almeno è quasi venerdì, giusto? Oh, sì, grazie al cielo. Non vedo l'ora che arrivi il fine settimana. Hai dei piani divertenti? Niente di troppo folle. Forse è solo andare a vedere un film o cenare con alcuni amici. Sembra carino e rilassante. Penso che potrei semplicemente rannicchiarmi sul divano e guardare qualche programma senza sosta. Oh, sembra perfetto. C'è qualche spettacolo in particolare che non vedi l'ora di vedere. Avevo intenzione di iniziare quella nuova serie di fantascienza di cui tutti parlano. Oh, sì, ho sentito che è davvero buono. Forse possiamo guardare un episodio insieme qualche volta. Sicuramente, sarebbe fantastico. Sarebbe bello avere qualcuno con cui discuterne. Assolutamente. Ho sempre voglia di una piacevole maratona televisiva in buona compagnia. Allora è un appuntamento. Ti farò sapere quando avrò la possibilità di iniziare il nuovo spettacolo. Sembra buono. Sarò pronto con i popcorn. Questo venerdì non può arrivare abbastanza presto. Hai capito bene. Sto contando i minuti che mancano al fine settimana. Lezione 10. Amanti della natura. Ehi, hai visto quel documentario sulle specie in via di estinzione ieri sera? Sì, l'ho fatto. Mi ha davvero aperto gli occhi. Vero? Totalmente. Mi dispiace tantissimo per quei poveri animali. I loro habitat stanno semplicemente scomparendo. Lo so. È così straziante. Dobbiamo fare di più per proteggere l'ambiente. Sicuramente. Stavo pensando di fare volontariato presso la riserva naturale locale questo fine settimana. È un'ottima idea. Mi piacerebbe molto unirmi a te. Possiamo fare la nostra parte per aiutare a conservare la natura. Fantastico. Sarà bello sporcarsi le mani e fare davvero la differenza. Assolutamente. E così facendo possiamo imparare moltissimo sulla fauna locale. Di sicuro. Sono entusiasta di vedere tutte le diverse piante e animali da vicino. Anch'io. Dovremo assicurarci di non disturbare nulla. Però. Assolutamente. Questo è l'approccio giusto. Devo essere molto attento e rispettoso. Sicuramente. È importante lasciare tutto come l'abbiamo trovato. Sai? Non potrei essere più d'accordo. Sarà un'esperienza davvero gratificante. Lo sento. Non vedo l'ora. Sarà un ottimo modo per trascorrere il fine settimana. Cavolo sì. Sarà la perfetta piccola fuga nella natura. Lezione 11. Tennis Titans. Wow. Hai visto quell'epica partita di tennis ieri sera? Assolutamente no. Me lo sono perso. Chi giocava? Era Borg contro McEnroe. Uno scontro totale tra titani. Cavolo. Posso solo immaginare quanto debba essere stato intenso. Hai capito bene. Quei due sono rivali da anni. Rivalità del genere rendono davvero questo sport molto più eccitante. Vero? Totalmente. Il avanti e indietro è semplicemente elettrico. Sicuramente. E anche Borg e McEnroe hanno stili di gioco così diversi. Esattamente. L'approccio calmo e calcolato di Borg contro la passione ardente di McEnroe. È la ricetta perfetta per un incontro indimenticabile. Assolutamente. E sai, Borg aveva solo 18 anni quando iniziò a vincere tutti quei campionati importanti. Wow, 18 anni? È pazzesco. Deve essere stato un vero prodigio. Di sicuro. Questi furono i primi di diversi titoli importanti che avrebbe vinto alla fine degli anni 70 e all'inizio degli anni 80. È incredibile quanto abbia realizzato in così giovane età. Sì, era un vero fenomeno del tennis. Sicuramente uno dei migliori di tutti i tempi. Lezione 12. Trasformazione tecnologica. Wow, hai visto l'ultima innovazione tecnologica appena uscita? No, cosa c'è? Sono sempre ansioso di conoscere le ultime scoperte tecnologiche. È questo nuovo incredibile visore per realtà aumentata. Cambierà totalmente il gioco. Realtà aumentata. È? Sembra affascinante. Come funziona? Bene, proietta immagini 3D virtuali direttamente nel tuo campo visivo. È come vivere in un mondo digitale completamente nuovo. Wow, è assolutamente strabiliante. Non riesco nemmeno a immaginare che tipo di applicazioni potrebbero avere. Giusto? Rivoluzionerà il gioco, l'intrattenimento e persino le attività quotidiane. È incredibile vedere come la tecnologia continui a rimodellare la nostra realtà in questo modo. Sicuramente. Anche questa è solo la punta dell'iceberg. Chissà quali altre folli innovazioni si profilano all'orizzonte. Lo so, mi rende così entusiasta di vedere cosa ci riserva il futuro. Il ritmo del cambiamento tecnologico è semplicemente sbalorditivo. L'hai detto tu. Ti ricordi quando gli smartphone erano nuovi di gecca? Ora sono praticamente un'estensione del nostro corpo. Esattamente. È pazzesco quanto velocemente queste cose diventino la nuova normalità. Assolutamente. Non vedo l'ora di mettere le mani su quel visore AR e vedere il mondo in un modo completamente nuovo. Scommetto che sarà un'esperienza incredibile. La tecnologia sta davvero aprendo nuovi orizzonti di possibilità. Di sicuro. Il futuro ci sta arrivando più velocemente che mai. Lezione 13. GYM Goer Mi scusi, sa se c'è una palestra in questo hotel? Mi piace allenarmi quando viaggio. Oh, è una bella domanda. Sì, c'è un centro fitness qui al secondo piano. Fantastico, è esattamente quello che speravo di trovare. Cerco di mantenere la mia routine di esercizi anche quando sono in viaggio. Ti capisco. È così importante mantenere uno stile di vita sano, anche quando sei lontano da casa. Totalmente. Trovo che mi aiuti a rimanere energico e concentrato durante i miei viaggi di lavoro. Assolutamente. E anche la palestra qui è davvero ben attrezzata. Da quello che ho sentito, hanno macchine cardio e pesi liberi di prima qualità. Dolce, è musica per le mie orecchie. Sicuramente lo controllerò più tardi. Sono sicuro che ti allenerai benissimo. Anche i panorami dai tapis roulant sono piuttosto spettacolari. Ancora meglio. Adoro sudare bene mentre ammiro dei bei paesaggi. Anch'io. Fitness e relax. La combinazione perfetta quando viaggi per lavoro. Couldn't agree more. All right, I'm gonna head over there in a bit. Thanks for the tip. Of course, happy to help. Enjoy your workout and have a great rest of your day. Will do. Thanks again. Catch you around. Lezione 14. Suggerimenti per la produttività. Dimmi, Anna, hai qualche consiglio per rimanere produttiva e al passo con i tuoi compiti? Cerco sempre di migliorare la mia gestione del tempo. Ottima domanda. Trovo che suddividere progetti più grandi in passaggi più piccoli e più gestibili possa essere davvero utile. Ah sì, il vecchio approccio divide e ti impera. Capisco come ciò renderebbe le cose meno opprimenti. Esattamente. E fissare delle scadenze per queste mini-attività mi mantiene motivato e sulla buona strada. Hmm, buon punto. Ma come ti assicuri di non impegnarti troppo o di esaurirti? Questa è una considerazione davvero importante. Cerco di essere realistico su ciò che posso realizzare in un determinato lasso di tempo. Ah, capisco. Conoscere i propri limiti e seguire il proprio ritmo è fondamentale. Hai altri assi nella manica? Bene, trovo utile anche raggruppare attività simili. In questo modo posso lavorare in modo più efficiente. Oh, mi piace l'idea. Raggruppare le cose da fare correlate ha assolutamente senso. Che ne dici di eliminare le distrazioni? Assolutamente cruciale. Cerco di disattivare le notifiche e chiudere le schede del browser non necessarie quando devo concentrarmi. Ah sì, queste distrazioni digitali possono davvero far deragliare la tua produttività. Ottimo consiglio. Sicuramente. Oh, e anche fare delle pause regolari è molto importante. Anche solo un breve allungamento o una passeggiata possono darti nuova energia. Fantastico, dovrò tenerlo a mente. Grazie per tutti i consigli utili, Anna. Lo apprezzo davvero. Certo. Felice di condividere ciò che funziona per me. Fatemi sapere se avete altre domande. Lo farò, grazie ancora. Ci vediamo dopo. Lezione 15. Il sogno di una nazione. Buongiorno, Anna. Avete sentito parlare di quel discorso ispiratore del leader dei diritti civili? Intendi quello in cui parlava del suo sogno per la nazione. Mi ha davvero commosso. Assolutamente. Il modo in cui ha dipinto una visione così potente e piena di speranza è stato davvero straordinario. Sì, le parole che ha usato sembravano catturare la coscienza del paese, vero? Sicuramente. Era come se stesse incanalando lo spirito dei grandi profeti dell'antichità. Esattamente. Il modo in cui ha parlato di uguaglianza e giustizia ha risuonato davvero a un livello profondo. Assolutamente. E le immagini che usava, come quella di persone di ogni provenienza che si uniscono per mano, erano così vivide. MHM, non c'è da meravigliarsi che il suo discorso sia considerato uno dei più iconici e influenti di tutti i tempi. Sì, aveva un vero talento nell'usare il linguaggio per ispirare e unire le persone dietro una causa comune. Sicuramente. È incredibile come le parole giuste, pronunciate con convinzione, possano risvegliare l'anima di una nazione. Non potrei essere più d'accordo. Il suo sogno di un futuro più giusto ed equo sembrava davvero catturare le speranze di tanti. Assolutamente. È un potente promemoria del potenziale trasformativo di una potente oratoria. Di sicuro. Quel discorso continuerà senza dubbio a risuonare e ispirare per le generazioni a venire. Non c'è dubbio. È una vera pietra miliare negli annali della storia americana e della lotta per i diritti civili. Ben detto, sono lieto che abbiamo avuto modo di parlare del profondo impatto di quelle parole senza tempo. Lezione 16. I vantaggi della pratica. Ehi Anna, sei al passo con la tua pratica linguistica ultimamente? Ci puoi scommettere. Questo è uno dei motivi per cui ho iniziato a praticarlo regolarmente. Oh, davvero? Quali benefici hai notato da tutta questa pratica? Beh, per prima cosa, la mia padronanza è migliorata molto. Le parole sembrano fluire in modo più naturale ora. È bello sentirlo. Ho scoperto che una pratica costante è fondamentale per l'apprendimento delle lingue. Sicuramente. E non si tratta solo della fluidità. Anche il mio vocabolario si è ampliato. Ah sì, più usi la lingua, più parole finisci per imparare. Esattamente. Scopro continuamente nuove espressioni e modi di dire. Fantastico. La pratica ti ha aiutato anche ad aumentare la tua autostima? Assolutamente. Prima mi sentivo imbarazzato a parlare, ma ora sono molto più a mio agio. Questo è fantastico. La fiducia è una parte così importante per diventare fluenti. Totalmente. E sai, la pratica mi ha persino aiutato con le mie capacità di ascolto. Buon punto. Immergersi nella lingua fa davvero meraviglie per la comprensione. Di sicuro. Sono semplicemente stupito di quanti progressi ho fatto in un tempo relativamente breve. Persistenza e pratica regolare. Questa è la chiave, no? Sono felice di sapere che ti sta dando i suoi frutti. Lezione 17. Indicazioni e punti di riferimento. Scusi, sa per caso dov'è la biblioteca? Oh, la biblioteca. È su Elm Street. Proprio di fronte al parco. Ah, capisco. Grazie. Sono nuovo in questo quartiere, quindi sto ancora imparando a muovermi. Nessun problema. Il parco è un grande monumento da ricordare. La biblioteca è proprio dall'altra parte. Perfetto, è davvero utile. Avevo problemi a immaginare dove fosse esattamente. Sono lieto di averti indicato la giusta direzione. Il parco e la biblioteca sono imperdibili in Elm Street. Buono a sapersi. Grazie per aver dedicato del tempo a darmi quelle indicazioni. Certo. Sono sempre felice di aiutare nuove persone a orientarsi da queste parti. È molto gentile da parte tua. Anch'io dovrò esplorare il parco più tardi. Sembra fantastico. Dovresti assolutamente. È un ottimo posto per una passeggiata o semplicemente per rilassarsi un po'. Lo terrò a mente. Grazie ancora per l'aiuto. Mi sento molto meno perso adesso. Siete i benvenuti. Fammi sapere se hai bisogno di altri consigli sul quartiere. Lo farà. È bello incontrare un locale amichevole che conosce così bene la zona. Allo stesso modo. Sono lieto di poterti indicare la giusta direzione per la biblioteca. Anch'io. Questo è stato di grande aiuto. Apprezzo che tu abbia dedicato del tempo. Lezione 18. Gratitudine e apprezzamento. Ho davvero apprezzato il tuo gesto gentile l'altro giorno. Oh, benvenuta. Sono così felice di aver potuto dare una mano. È stato così premuroso da parte tua. Mi ha davvero migliorato la giornata. Questo mi rende felice di sentirlo. Stavo solo cercando di dare una mano. Beh, il tuo aiuto è stato prezioso. Ti sono davvero grata. Oh, non era niente. Sono contenta di essere stata d'aiuto. Ma ha significato molto per me. Hai fatto di tutto. Certo. Lo rifarei in un batter d'occhio. È a questo che servono gli amici. Sei un'amica meravigliosa. Non so cosa farei senza di te. Allo stesso modo. Mi sento così fortunata ad averti nella mia vita. Il sentimento è reciproco. La tua gentilezza non passa inosservata. Apprezzo che tu lo dica. Significa davvero molto. Sei troppo gentile. Sono felice di aver potuto rendere la tua giornata un po' più luminosa. Sicuramente l'hai fatto. Non posso ringraziarti abbastanza. Non indovinerai mai cosa ho visto nella casa del mio vicino. Oh, davvero? Che cos'è? Sono incuriosito. Hanno un migliaio di libri e una cantina a temperatura controllata. Wow! È una bella collezione. Devono essere avidi lettori e appassionati di vino. Ma non è tutto. Hanno anche un poligono di tiro e una grande collezione d'arte. Un poligono di tiro. È un hobby interessante. E anche una collezione d'arte. Sembrano avere interessi diversi. Lo so, giusto? Lo so, sono un po' geloso di tutte le loro cose interessanti. Posso capirlo. Sembra che abbiano una casa davvero impressionante. Mi chiedo cosa facciano per vivere per permettersi tutti quegli hobby e collezioni. Forse sono davvero appassionati dei loro interessi e risparmiano da molto tempo. È un'ottima idea. Che genere di cose ti interessa provare? Non ne sono ancora sicuro, ma inizierò sicuramente a esaminare alcune opzioni. Beh, sono felice di scambiare idee con te. Potrebbe essere una nuova divertente avventura. Suona bene. Sono entusiasta di vedere che tipo di talenti nascosti potrei scoprire. Lezione 20. Viaggio affascinante. Non crederai mai al fatto interessante che ho appena saputo sull'Inghilterra nel 1800. Oh, ditelo! Sono sempre impaziente di conoscere la storia. A quanto pare, i treni di allora erano massicci e piuttosto lenti, quasi come un treno senza motore. Affascinante! Non riesco nemmeno a immaginare che aspetto dovevano avere quei treni. Lo so, giusto? È difficile immaginare un mezzo di trasporto così grande e lento. Mi chiedo come le persone riuscissero a percorrere lunghe distanze allora. Deve essere stato un vero calvario. Esattamente. I treni erano così grandi e lenti che dovevano volerci anni per arrivare ovunque. Scommetto che i passeggeri hanno avuto tutto il tempo per guardare fuori dai finestrini e ammirare il panorama. Almeno. Questo è un buon punto. Probabilmente era un modo molto più piacevole e rilassante di viaggiare. Rispetto ai treni ad alta velocità che abbiamo oggi, sembra un'esperienza molto diversa. Posso immaginare che sia stato allo stesso tempo affascinante e frustrante, a seconda del temperamento del viaggiatore. Sicuramente. Alcune persone probabilmente hanno apprezzato il ritmo lento, mentre altre sono diventate impazienti. È incredibile quanto il trasporto si sia evoluto nel corso dei secoli. Mi piacerebbe fare un giro su uno di quei treni vecchio stile un giorno. Anch'io. Sarebbe come tornare indietro nel tempo e vivere in prima persona un pezzo di storia. Esattamente. Già mi immagino mentre sbircio fuori dalla finestra e ammiro i panorami dell'Inghilterra del XIX secolo. Lezione 21. Fitness Buddies. Ehi Anna, ho sentito che ultimamente ti stai divertendo in palestra. Che tipo di esercizi hai fatto? Buongiorno, John. Sto facendo un mix di allenamento cardio e di forza. Mi sta davvero aiutando a sentirmi più forte e pieno di energia. È fantastico. Anch'io ho cercato di trovare una buona routine di allenamento. Che tipo di cardio stai facendo? Ho alternato corsa, ciclismo e nuoto. È importante mescolarlo per far lavorare diversi gruppi muscolari. Ah, capisco. Il cardio è così importante per la forma fisica generale. E anche l'allenamento della forza è fondamentale, giusto? Assolutamente. Mi sono concentrato molto sul sollevamento pesi e sull'allenamento di resistenza. Aiuta davvero a costruire massa muscolare magra. Bello. Volevo incorporare più allenamento per la forza nella mia routine. Qualche consiglio per un principiante come me? Inizia con alcuni esercizi composti di base come squat, stacchi e flessioni. Lavorano su più gruppi muscolari contemporaneamente. Capito. Ha senso. E con che frequenza intendi fare allenamenti di forza? Cerco di allenarmi per la forza due a tre volte a settimana. Con un po' di cardio negli altri giorni. Si tratta solo di trovare il giusto equilibrio. Sembra un ottimo piano. Penso che ci proverò. Grazie per il fantastico consiglio, Anna. Nessun problema. John. Sono sempre felice di condividere consigli di fitness. Fammi sapere come va la tua nuova routine. Lo farà. Sono entusiasta di iniziare e vedere dei progressi reali. Compagni di fitness? Lezione 22. Meteo per il fine settimana. Ehi, Anna. Hai controllato le previsioni del tempo per il fine settimana? Ho sentito che dovrebbe essere davvero bello fuori. Buongiorno, John. Sì. Ho visto le previsioni e sembra che farà caldo e soleggiato. Clima perfetto per stare all'aperto. Questa è un'ottima notizia. Hai dei piani divertenti per approfittare del bel tempo? Stavo pensando di fare un'escursione o magari un picnic nel parco. E tu, hai dei piani? Beh, speravo di poter fare una partita a golf se il tempo lo permette. Sono passati anni dall'ultima volta che gioco. Oh, il golf sembra perfetto. L'aria fresca e il sole saranno così rinfrescanti dopo essere stati rinchiusi per tutta la settimana. Sicuramente. E scommetto che i campi saranno in ottima forma con tutto questo bel tempo che abbiamo avuto. Assolutamente. È il periodo dell'anno ideale per le attività all'aperto. Non vedo l'ora di crogiolarmi al sole questo fine settimana. Nemmeno io. Questo è esattamente il tipo di tempo che speravo. Dovrò controllare i miei orari e vedere se posso unirmi a te per quell'escursione. Sarebbe meraviglioso. John, fammi sapere se sei libero e possiamo pianificare qualcosa. Più sono e meglio è. Suona bene e guarderò la mia agenda e ti ricontatterò. Questo fine settimana si preannuncia una vera delizia.